Ringrazio per l'invito, sono onorato di essere su questo palco. Ho sentito sia il Presidente della Corte sia il nostro Presidente dell'Ordine degli Avvocati fare riferimento alle ADR, ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Tra le funzioni del Corre con Piemonte rientra proprio anche una di queste tipologie di forme alternative di risoluzione delle controversie. In particolare la gestione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche, telefonia e pay tv e utenti in ambito locale. Questo esercizio rientra tra le funzioni che ci vengono delegate dall'AGICOM a livello nazionale e poi si irradiano in ogni singola Regione. I Corre con Piemonte sono organi di consulenza e di gestione di controllo della Regione in materia di comunicazioni elettroniche e nonché organi funzionali di decentramento territoriale dell'autorità. Sin dal 2004, in attuazione della Convenzione sottoscritta proprio in quell'anno, il Corre con Piemonte svolge l'attività relativa all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e alle richieste di intervento diretta a garantire la continuità dell'erogazione del servizio da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa. All'origine dell'Istituto della conciliazione, in materia di telecomunicazioni, troviamo proprio la centralità e l'indefettibilità del servizio telefonico per la realizzazione di diritti e libertà civili ed economiche, centralità che è andata rafforzandosi ovviamente con la diffusione di cellulari e smartphone, e la necessità che le liti riguardanti i malfunzionamenti e costi controversi inerenti all'esercizio possano trovare una composizione in sede alternativa a quella giurisdizionale. La soluzione conciliativa in linea di principio risponde sia agli interessi del consumatore che in tempi brevi e con costi contenuti in termini di spese, infatti non è obbligatoria l'assistenza legale, può ottenere indennizi per disservizi patiti oppure rimborsi di somme non dovute sia agli interessi dei gestori che è considerato il grande e rilevante numero di potenziali contenziosi possono ospicare risparmi complessivi sulle spese legali e comunque di gestione delle varie pratiche. Nel 2018 l'Istituto ha subito un cambiamento importante, è stato approvato dal Consiglio dell'autorità un nuovo regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche ed è entrata in funzione una piattaforma telematica nazionale di gestione delle procedure denominata Concilia Web, attraverso la quale appunto si può accedere a questo servizio di conciliazione. Nell'ottobre del 2022 è stato in ultimo modificato il quadro regolamentare in materia di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche al fine di ricomprendervi anche le controversie nei confronti dei fornitori dei servizi a di media audiovisivi. Queste novità entreranno in vigore da febbraio del 2023. Il tentativo di conciliazione è obbligatorio, ossia il suo esperimento costituisce condizione di procedibilità per poi eventualmente agire in giudizio ed è gratuito. Quando il tentativo di conciliazione si conclude positivamente l'accordo è vincolante tra le parti. Il relativo verbale costituisce titolo esecutivo. Anche gli operatori possono avanzare in stanza di conciliazione nei confronti degli utenti esclusivamente nel caso in cui il credito relativo alle prestazioni effettuate che oggetto di controversia sia stato contestato dalla controparte. Se il tentativo di conciliazione è un esito totalmente o parzialmente negativo l'utente può rivolgersi al giudice ordinario oppure entro tre mesi chiedere al Corecom la definizione della controversia. Il comitato, ovvero riscontro il fondamento dell'istanza, può ordinare all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere agli indennizi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o dal delibere dell'agico. È fatta a salva la possibilità per le parti di far valere poi in sede giurisdizionale il maggior danno. Anche questo procedimento è totalmente gratuito e non necessita dell'assistenza tecnica. La decisione del Corecom ha valore di ordine dell'autorità amministrativa e quindi obbliga la parte soccombente ad eseguire quanto stabilito nel provvedimento decisorio. In caso di inottemperanza l'agico può erogare una sanzione pecuniaria, generalmente nei confronti delle compagnie telefoniche. Per darvi un'idea, le principali tipologie oggetto di contenzioso sono la mancata o parziale fornitura dei servizi di telefonia, sia della DSL sia della Pay TV, il ritardo nella fornitura, l'interruzione alla sospensione del servizio, l'attivazione di prodotti e servizi non richiesti, le modifiche contrattuali, le spese o fatturazioni non giustificate, il traffico non riconosciuto, la mancata portabilità o migrazione del servizio, l'assenza di trasparenza contrattuale, i guasi alle parecchiature della linea, il mancato e rato inserimento negli elenchi telefonici, cartacei o informatici. E ho gli omessi rimborsi. Nel 2022 il Corecom ha ricevuto 4.313 domande di conciliazione e ne ha chiuse ben 4.440 anche relative all'anno precedente. In udienza alla presenza del gestore e dell'utente la percentuale di accordi è stata elevatissima, 82,74%. Nel 2022 il Corecom ha ricevuto 370 istanze di definizione e ne ha concluse 479 anche relative all'anno precedente. La percentuale di accordi in tale udienza è dell'83,68%. Nei casi di sospensione o problemi tecnici o guasti del servizio di telefonia, DSL o Pay TV, l'utente, contestualmente all'istanza di conciliazione o impendenza del procedimento, può anche attivare una procedura d'urgenza, finalizzata a garantire tramite l'adozione di un provvedimento temporaneo da parte delle Corecom, entro 10 giorni della richiesta, la continuità dell'erogazione del servizio, incluso l'utilizzo dei terminali a esso associati o della numerazione in uso. Tale provvedimento esaurisce i propri effetti con la chiusura del procedimento di conciliazione. È importante sottolineare come l'utilizzo, e qui vado a chiudere, della piattaforma telematica concilia web di Agicom per la gestione delle istanze, abbia consentito anche con lo svolgimento dell'attività lavorativa in modo agile di gestire la totalità del contenzioso a seguito del ricevimento delle domande tramite compilazione di un modulo online. È stato determinante l'utilizzo delle virtual room o delle audioconferenze per l'udienza, con accesso alla documentazione in formato elettronico su fascicolo virtuale e firma digitale dei documenti attraverso l'invio di OTP. La totale flessibilità e facilità d'uso si è rivelata risolutiva anche nei confronti degli utenti sprovvisti di dotazione informatica completa, essendo sufficiente l'uso dello smartphone ormai presente in ogni famiglia italiana. Mi permetto di rivolgere solo un plauso ai dipendenti e ai funzionari del Corecom, cinque delle quali, tutte donne tra l'altro, sono quelle che effettivamente smaltiscono questa mole, direi corposa, di più di 4.000 fascicoli a mano. Grazie per l'attenzione. Grazie.